professore come si differenziano tra loro dal punto di vista diagnostico e i pazienti poi devono fare gli stessi accertamenti ma nella mgus nel mieloma smoldering e nel mieloma multiplo la diagnosi deve essere fatta da uno specialista perché esistono delle sfumature tra queste tre patologie che possono essere molto molto importanti per la salute del paziente per fortuna la grande maggioranza delle persone non ha altro che una anomalia di basso livello all'elettroforesi del siero in questo caso se questo è un riscontro isolato di bassa entità addirittura potrebbe essere il medico curante a occuparsi di interpretare il risultato stabilire che non c'è altro e chiudere qui la faccenda è vero che spesso i pazienti vengono comunque inviati dallo specialista anche solo una volta per confermare questo giudizio ma nel caso di un mgus fare degli esami del sangue degli esami delle urine può essere sufficiente per formulare una diagnosi e avviare il paziente verso un follow up che sarà annuale circa nel caso in cui noi sospettiamo un mieloma multiplo che sia smoldering o che sia sintomatico è invece lo specialista ematologo a dover condurre il lavoro della diagnosi e purtroppo la diagnosi non si fa semplicemente con degli esami del sangue e degli esami delle urine serve di approfondire l'iter attraverso l'esecuzione di una biopsia osteomidollare e attraverso una serie di indagini rivolte alla ricerca di lesioni ossee e queste possono essere radiografie convenzionali o più frequentemente al giorno d'oggi degli esami come l'attacco la risonanza magnetica in qualche caso anche la PET per cercare delle lesioni ossee che ci possono far appendere la diagnosi verso un mieloma smoldering o verso un mieloma attivo per cui ad eccetto dei casi più chiamiamoli più tranquilli di emegus il workup diagnostico del mieloma smoldering e del mieloma attivo è esattamente lo stesso e al termine di questo si formula l'una o l'altra diagnosi.